Trick or treat, dolcetto o scherzetto, o meglio, maledizione o sacrificio. Ormai da molti anni anche in Italia si sta diffondendo la consuetudine di far festa nella notte di Halloween. Tuttavia, molti ignorano il reale significato di questa festa, a cavallo con la ricorrenza di ogni santi e assolutamente anticristiana. Halloween, definito il capodanno per eccellenza di tutto il mondo esoterico, nasce da Samhain, Dio delle Tenebre, un rito in onore di divinità pagane al principe della morte, celebrato dalle popolazioni celtiche attraverso riti e orge, durante i quali scorrevano fiumi di bevande alcoliche e si offrivano sacrifici anche umani per ingraziarsi gli spiriti maligni. I sacerdoti stregoni celti, dunque, celebravano la notte di Samhain come la solenne cerimonia di passaggio dalla stagione estiva a quella invernale, in cui le tenebre avrebbero domato il Dio del Sole facendo tornare sulla terra le anime dei defunti che, secondo la tradizione, sarebbero entrate nei corpi dei viventi. E quindi, per allontanare questi spiriti, si compivano nella notte di Halloween specifici rituali dove era necessario mascherarsi con pelli di animali uccisi, portare lanterne create con rape svuotate ed incisi a forma di volto umano, al cui interno c'era una candela accesa realizzata con il grasso dei sacrifici. Successivamente, invece, è stato introdotto l'uso delle zucche. Il mattino seguente, invece, la tradizione celtica imponeva di portare le braci ardenti nelle famiglie. Chi le rifiutava veniva maledetto. Insieme a questi rituali, gli irlandesi erano soliti credere che, nell'ultimo giorno del mese di ottobre, i defunti potessero accedere al mondo dei vivi. Per questo, in casa, si era soliti lasciare il fuoco acceso, cibo sulla tavola e la porta d'ingresso socchiusa. I bambini, invece, chiedevano le cornie di ogni genere, mele e nocciole, che rappresentavano le offerte ai defunti. Di qui, poi, l'usanzia di suonare di casa in casa per chiedere dolcetto o scherzetto. Oggi, Halloween viene festeggiata con serate a tema, in cui c'è di tutto e di più. Maschere, teschi, zucche, zombie. Insomma, una notte davvero trasgressiva, considerata dagli esoteristi la più magica dell'anno. Non è un caso che molti, in questa notte, abbiano la consuetudine di consultare maghi, oroscopi, tarocchi e fin anche di organizzare riti di iniziazioni esoteriche. Insomma, la festa più importante dell'anno per i seguaci di Satana. A questo punto verrebbe da chiedersi, ma se Halloween rievoca il male, cosa c'è davvero da festeggiare?